Assessore com'è la situazione a Costa Doneglia? A Costa Doneglia diciamo come tutti i borghi hanno delle criticità ci stiamo lavorando oggi abbiamo fatto un intervento su costa domani andremo su altri borghi in maniera di vedere tutte le criticità e cercare di sistemarle abbiamo fatto alcuni incontri con la collega Gandolfo ci siamo già puntati tutte le problematiche di Costa andremo a farle in altri borghi con la collega in maniera che cercheremo di risolvere i problemi di questi borghi bellissimi. Come giudica la nostra iniziativa per far conoscere le frazioni d'Imperia? Io vi faccio un plauso che siete sul pezzo quindi siete bravi anche perché ritengo che alcune bellezze di questi borghi non si conoscono e voi siete bravi a risaltarli quindi avete tutto il nostro sossegno dell'amministrazione del sindaco che ci tiene a rivalutare tutti questi 12 borghi che abbiamo ad Imperia.